Sì, buongiorno a tutti. Oggi parte il progetto dei passaporti nei comuni che sono stati individuati. Oggi è Fidine, siamo già stati a Borgo e a Barberino, quindi il terzo mercoledì del mese saremo sempre qui a Fidine e vorranno rivolgersi non soltanto gli abitanti di Fidine ma anche di Reggello e degli altri comuni di Mitrofi per agevolare le persone che altrimenti dovrebbero venire a Fidine per notare online e quindi perdere tempo prezioso forniamo un servizio più vicino alle loro esigenze. Il servizio funziona come d'abitudine, ci si prenota online secondo un calendario che viene fissato in 10 minuti per ogni utente e copriamo circa 50 richieste ogni giorno.